Allora, aspetta, lui fa la live, aspetta, dopo, lui fa il video, lui mangia, mangia, siamo un pochettino flippati, e io faccio il video anch'io, yes, siamo tutti qua, guardate, 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 io chiamo la mamma, 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 sì, sono con fruttagente, vieni a prendere, non ci venite in Calabria, si sta male, c'è beleno, non nell'acqua, in aria, qua, questo è beleno, no, non conosco, non conosco, è tossico, è tossico, è comunque guardiamo il mare, senza il contorno nero non lavori con la fiuta, veramente, aspetta, mettiamo il contorno nero, scusami, aspetta, dammi il soli giubbino, Ti avrei rendi conto che mi tocca a fare? Ci sono troppi cellulari in mezzo però, Angelo, ciao Angelo, ci vuole Angelo, guarda che camper, c'è un camper, c'è un camper, che è? O è Angelo, ciao, stiamo provando l'S10, io invece sto fermo il P8 Lite, direttamente, ola sergio bellissima stiamo facendo un casino comunque vi do un'anteprima vi do un'anteprima che anteprima sappiamo domenica prossimo nemesi lui a roma percorro la strada per rincorrere un sogno questa moto per rincorrere quel sogno lì questo poi ha più cavalli più cavalleria c'è il freddo che mi rovina il video però è snella voi siete caffettino si dice caffettino time caffè caffè e mela time mela time mela fammi vedere la mela perché una mela al giorno leva e mi ricordo c'è un'anteprima roma d'aggetto buongiorno a tutti amici, buongiorno da Mirto, dal mare, ecco oggi purtroppo salutiamo quella che è stata la nostra casa per alcuni bellissimi giorni, quasi una settimana mi pare, ma non mi ricordo comunque giorni, svariati giorni, ecco questa è la nostra postazione, siamo trovati bene, è un lungomare che adesso ovviamente è poco frequentato, vista la stagione, insomma è poco frequentato, e che dire, sono stati bene, non ci sono state rotture, si stava tranquilli, ci dormiva bene, c'era anche caldo di notte devo dire, ma sì però purtroppo dobbiamo muoverci perché il dovere ci chiama, dobbiamo andare su, abbastanza la svelte, ecco è arrivata, non senti, è mezz'ora che sono qua no, non ti ho sentito solo adesso, che ti sei appoggiato, secondo me ho parlato troppo pieno, come è solito, però, eh non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, che stavi dicendo? modalità turista comunque, niente, stavo spiegando che dopo questa parentesi in cui questa è stata casa nostra, ho fatto vedere un po' il suo surroundings, farà schifo, immagino il video ovviamente, perché non lo faccio io, sì, rifarlo tu, lo rifarò a lei, in cui questa è stata casa nostra, ci siamo trovati bene, siamo stati qua tranquilli, sul mare, dormire col rumore del mare, sì, mi piace con il tuo maletto, eh già, non sono molto in forno ragazzi, ci riprenderà, però sì, esatto, la Calabria non ha portato bene ai tuoi regni, diciamo, al tuo schieno, al tuo panta, al tuo vecchio, al tuo tutto, al tuo tutto uno, spesso si vede, però dai, nel complesso siamo stati bene, sì, sì, il mare ti ha fatto dormire bene, sì, purtroppo abbiamo salutato la nostra sorella scena, no, non è un addio, non è mai un addio ragazzi, e però, arrivederci, un arrivederci, no, l'addio non è un addio, ok, quindi anche adesso dovremo salutare, 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 salutare qua, salutare è una cosa molto salutare, è un arrivederci, un arrivo, un arrivo, un arrivo, comunque torneremo sicuramente, non so quando, stiamo in favore di luce, con uno sfondo del mare, vi diamo un bacione, con la gente che si guarda, la spugna l'avete vista? Ecco, nel posto, sì, l'ha fatto vedere un attimo, siamo nel posto, dal posto più flacsonato del mondo, vi salutiamo. Bip, 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 bip. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow, mare. Ci d'amore. Veleno, palaci d'amore. Buon so... Sì, ma non sto filmando, ma io sono proprio cretino. Scappa a Fugna, che è arrivato Nemesi. Ciao. Ciao Veleno. Vabbè, ma qua ci vuole una foto? Ma è bella. Ma è bella? Bella, sì. Un basso un po' calcio. Scusate, è calcio. Non lo seguo il calcio. Che fai? Ti fai fatti tuoi? Buon cadarito. Bravo, eh? Tu tanto che cominciate sei burino. Massaggio per tuo? Ma ti fai un burino o devi essere una porca? Tu sei burino è un'altra cosa. Massaggio? Sei fuori del cordone, fai parte del rum. Sei burino. Temi le carte in tavola e temi i puntini tuoi. Ci fai un burino, voi mangiate la pizza e io faccio i panzotti. Ma chi è? Cristina, non c'è il rum. Che casino. Nei panzotti rum. Che casino. Ma lei bella rum ogni due secondi. Ma domanda a chi è se beve il rum? Cristina ha detto che lei non vuole sapere perché bevi sempre rum. Non vuole dire che ti mangia in artiera misura. Perché Sabina, rum è con carino. Una Coca Cola. Stanno appartendo sul video il contro video del video. Il contro video del contro video del video. Vi vedete quanto siete ridicoli. Ci vedremo sicuramente. Tra un mese ovviamente. Per dimenticare dove sono capitato. Per dimenticare dove.